tutte le incomprensioni pensieri per una vita serena amadeus volben mediterranea a cura di vb ad ogni analisi apparirà per primo ciò che di noi è esterno e superficiale si comunica con la zona cosciente che anche se in ombra è più facile e a nessuno dovrebbe sfuggire si vedrà poi la parte più nascosta quella inconscia commento quella inconscia che contiene tutte le incomprensioni che devono trasformarsi in comprensioni attraverso le reincarnazioni